Eccolo qui Gianluca Caprari, allora grandi qualità, si è sempre parlato molto bene di te, del resto hai delle potenzialità, qualcuno dice ancora in espressa, insomma una bella crisalide, un'incompiuta, è il momento davvero di dimostrare a 21 anni tutto, no? Sì, credo che sia il momento, dopo forse 4 anni venendo e tornando già a Roma, quest'anno voglio riuscire a fare un anno intero qui e speriamo di riuscire a farlo bene. Ti devi scuotere anche tu? Sì, sì, è così, speriamo che il ministro mi dia la mano. Le prime sensazioni su Baroni? Sono state buone, ho parlato con lui, mi ha responsabilizzato un po' di cose, quindi speriamo di riuscire ad andare fino in fondo quest'anno. Che cosa ti ha chiesto in particolare? Mi ha chiesto corsa, sacrificio, voglio una mano anche da noi giovani, non la voglio solo da quelli un po' più anziani. Tra l'altro la società crede ciecamente in te, altrimenti non avrebbe rinnovato con proprietà con la Roma, quindi insomma adesso dipende davvero soltanto da Gianluca Caprani. Infatti devo tutto al Presidente e al loro gruppo perché sono 4 anni ormai che faccio qui e mi hanno ripreso lo scorso anno, quindi vuol dire che in me credono. È un cantiere, lo ha detto all'atto proprio dell'investitura ufficiale dello stesso Baroni, siete tanti giovani, quest'anno insomma l'insegnata dell'ingiovanimento, questo organico. Intanto che gruppo sta nascendo, si sta formando? Sì, sì, siamo forse 8-9 giocatori dello scorso anno e poi tanti giovani. È un gruppo sicuramente giovane perché lo siamo e penso che c'è un giusto mix, quindi speriamo di andare fino in fondo e raggrupparci ancora di più. Diciamo che sarà un Pescara, vogliamo così sbilanciarci, sbarazzino. Sì, giovanissimo credo, però con tanti giovani con voglia di fare, come io, Matteo, lo scorso anno, tanti giovani. Soprattutto Baroni, da quello che si è capito, chiede coraggio alla squadra, audacia insomma. È vero, infatti non è un caso che ha parlato già a me, a Matteo e credo ad altri giovani e ci ha responsabilizzato. Ma sana sfrontatezza, chiamiamola così. Sì, credo molto in noi, come ho già detto. Senti, ma Romero, che è in finale, no? A Coppa del Mondo, ha fatto due gol, no? Ricordi? È stato un caso. Questo portiere, che insomma è stato molto criticato a Genova. Adesso addirittura è stato l'eroe nella partita, nella semifinale. È stata una partita, il portiere è capitato male in quella giornata. Grazie, Gianluca. Grazie. 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 Grazie.